Musica Nella giornata di martedì 23 aprile si è tenuto il Consiglio Comunale, argomento all'ordine del giorno, il bilancio. Anche Orte ha celebrato il 74esimo anniversario della liberazione, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni dei partigiani e dei combattenti. Per il lungo ponte festivo, escursioni e passeggiate tra storia, arte, natura, siti archeologici, borghi medievali ed enogastronomia. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. Come abbiamo ascoltato nei titoli, nella giornata di martedì 23 aprile si è tenuto un Consiglio Comunale. Ascoltiamo il servizio e le interviste realizzate da Gianni Di Felice. È stato approvato il bilancio dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 aprile. Il bilancio è passato con i voti della maggioranza, ovviamente contrarie le opposizioni. Diversi temi trattati, sia sul piano trenale delle opere pubbliche, sia anche su quanto riguarda i capitoli di entrata. Per sapere il giudizio su quanto è accaduto, sentiamo prima le minoranze, al quale abbiamo chiesto un giudizio su questo bilancio e poi ovviamente la parola del Sindaco. Diciamo che questo è il terzo bilancio di previsione che fa l'amministrazione a guida Giuliani. Rimaniamo con dei dubbi sul fatto che la stragrande maggioranza delle entrate non sono corroborate da effettiva sostanza, nel senso che una cifra così alta sulle inflazioni stradali e la vendita di questi immobili che ormai è da tre anni e non vediamo grandissimi risultati e vanno a coprire le spese più grandi, sia correnti che in conto capitale, ci fa pensare che effettivamente poi il respiro di questa amministrazione non sia così tanto a lunga gittata come io chiedo sempre anche in altre sedi, ma che sia soltanto per coprire le spese essenziali di sussistenza dell'ente. Va detto pure che alcuni elementi della discussione rimangono abbastanza incomprensibili di consiglio perché il materiale presentato non esplica per esempio al meglio quanto le spese sul turismo, sulla cultura, sullo sport, sul tempo libero, sul sociale siano divise. Ho fatto anche alcune interrogazioni circa il futuro della farmacia che sta a cuore a me come credo a tutti gli ortani, capire se da quella farmacia si possono tirare fuori delle risorse buone e utili per l'ente. Non lo so, io continuo a rappresentare un po' di disappunto dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista programmatico, dal fatto che le opposizioni tranne la sede del Consiglio Comunale non hanno momenti di interlocuzione e ribadisco che è un bilancio che giustamente fa i conti con le ristrettezze dei finanziamenti pubblici e dei fondi dello Stato, però va anche detto che probabilmente si potrebbero fare anche delle scelte e delle priorità migliori su alcuni punti che questa amministrazione non fa. Sembra la ripetizione del bilancio del primo anno, praticamente non emergono idee, progettualità, non vengono ripetute sempre le stesse cose, il piano triennale delle opere pubbliche lo conferma, riportano opere praticamente già programmate anni fa, progetti datati, cioè non emerge nulla di nuovo e non ci sono novità nemmeno in questo piano, insomma. Diciamo le difficoltà degli amministratori a fare anche un'esposizione appunto del bilancio, nella dimostrazione. Al di là di questo abbiamo già messo in evidenza in questi giorni che risulta nel quadro economico un aumento della Tari di un 9% circa, vedremo un attimo come poi sarà spalmata a fine anno, come va redistribuita, e un aumento delle multe, anche questo con peraltro un parere contrario del Revisore dei Conti, quindi questi importi diciamo secondo noi un po' gonfiati per chiudere il bilancio con il pareggio. Un elemento importante che è emerso, che hanno messo nel piano delle alienazioni anche il mattatoio comunale, secondo mio parere modesto ovviamente, è un'operazione che non è possibile al momento fare, lì praticamente c'è una concessione in corso e tutto quello che ricade nel codice degli appalti non può essere messo nella disponibilità dell'ente. Quindi vedremo un attimo se proseguiranno su questa cosa, anche in questo caso tutto questo patrimonio messo in vendita senza un minimo di finalità, senza progettualità, cose dette a voce che ovviamente lasciano il tempo che trovano, ripeto una cosa stanca, diciamo non c'è nulla di nuovo, vengono riproposte sempre le stesse cose, gli stessi discorsi fatti tre anni fa ce l'hanno riportati oggi, quindi insomma forse qualcosina di più questa amministrazione dovrebbe cominciare a fare. Un giudizio positivo perché è un bilancio che in prospettiva può creare sviluppo e opere pubbliche per la città e al tempo stesso siamo riusciti a non far aumentare le tasse e quindi non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini. Quindi è una cosa molto positiva perché per la prima volta possiamo iniziare a ragionare in termini concreti di fattibilità senza aumentare i costi dei servizi. Secondo il Sindaco qual è l'elemento caratterizzante? Per me è un po' un bilancio, come ho detto anche nell'Aula, a doppio binario perché da una parte si fa carico delle esigenze più immediate dei cittadini e della città, parlo della pavimentazione, dei marciapiedi, aortescalo, della viabilità rurale in parte dove possiamo intervenire e in più si occupa anche del futuro della città nella valorizzazione delle attività turistiche e soprattutto nella previsione di una possibilità di rivisitare i piani di insediamento urbanistici e soprattutto a finalità produttive per incrementare e attirare gli investimenti sul territorio. Quindi è un bilancio ambizioso e al tempo stesso però che si fa carico delle necessità dei cittadini di tutti i giorni. Se consideriamo che poi è previsto il pronto farmaco, se consideriamo che ci sarà lo spostamento del centro sociale di Pedignano, se è già aperto il centro H, cercheremo di potenziare tutte queste attività e quindi è una bella cosa anche per quanto riguarda i problemi poi soprattutto delle fasce più deboli. C'è stata attenzione particolare sulla cultura? Beh, la cultura è il veicolo che potrà portarci poi alla valorizzazione del centro storico e del paese in generale e quindi la cultura, abbiamo detto appunto con l'ottava medievale, le porte sotterranea e con alberini possono essere il volano di questa valorizzazione della nostra comunità soprattutto oltre i livelli non solo cittadini ma oltre i livelli regionali e nazionali quindi è una bella scommessa su cui noi puntiamo appunto per creare ricchezza, per creare turismo per creare opportunità soprattutto per i più giovani. Il Consiglio Comunale sarà replicato lunedì a partire dalle ore 19.30 L'amministrazione comunale ha festeggiato il 25 aprile alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni dei partigiani e dei combattenti. Aperto dalla banda Città di Orte, il corteo ha sfilato in via del campo sportivo fino a raggiungere la piazza Tito Bernardini, cittadino ortano trucidato nella strage delle fosse ardeatine. Dopo l'inno di Mameli, il sindaco Angelo Giuliani ha preso la parola e ha ringraziato gli intervenuti per la loro presenza. Nel suo intervento il sindaco ha ricordato il valore di questa giornata che tanto ha significato per la nostra storia recente ed attuale. Una giornata da ricordare, da celebrare e da difendere in quanto patrimonio di tutti i cittadini, diventata il simbolo della conquista della democrazia. Un momento fondamentale della nostra storia di italiani che va tutelato e salvaguardato ogni giorno sia dalle istituzioni, attraverso i compiti che sono portate a svolgere e sia dai singoli cittadini affinché i principi sanciti con il sangue di chi ci ha preceduto possano trovare attuazione ogni giorno e in ogni ambito della nostra vita. Ora cambiamo argomento, parliamo delle confraternite ortane. Il vescovo diocesano, Monsignor Romano Rossi, segue con paterna sollecitudine le 70 confraternite con circa 6.000 confratelli e consorelle distribuite nelle parrocchie della diocesi convocandole con il desiderio di condividere una bella esperienza di chiesa e fraternità al consueto appuntamento del cammino diocesano delle confraternite per un momento durante l'anno che faccia unità e dia sostegno al loro percorso. Un richiamo molto sentito dai confratelli e dalle consorelle che si sentono parte integrante del loro modo di vivere la chiesa come testimonianza di fede e di servizio. Il giorno dell'incontro è domenica 28 aprile a Sutri. Il programma della giornata prevede alle ore 9.30 la Catechesi del Vescovo presso la chiesa di San Francesco, alle ore 11 il cammino delle confraternite verso la concattedrale di Santa Maria Assunta, alle ore 11.30 la Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo Monsignor Romano Rossi e alle ore 13 il pranzo presso la Sala Polivalente del Comune di Sutri. Le confraternite nella loro vita millenaria hanno sempre avuto una grande parte nella storia della Chiesa nel loro significato di riconciliazione ed evangelizzazione e un ruolo determinante sul piano sociale, assistenziale e culturale. Aprile è il mese della primavera che entra nel vivo e dell'esplosione della natura. Ecco alcune idee per una gita fuori porta in occasione del primo lungo ponte festivo del 2019 nella natura, nelle città d'arte, eventi dedicati anche alle famiglie con bambini. Parliamo innanzitutto della nostra provincia. Tesori d'Etruria e la Viterbo Sotterranea si preparano a festeggiare il lungo ponte festivo nell'antica città etrusca di Viterbo a partire dal 25 aprile fino a domenica 28 aprile. Si animeranno le iniziative con passeggiate, degustazioni ed altri eventi pensati per grandi e bambini. Sono previste innanzitutto visite guidate alla Viterbo Sotterranea. La Viterbo Sotterranea è composta da un reticolo di gallerie che si estendono sotto il centro storico e conducono fin oltre la cinta muraria. Per ora l'unico tratto percorribile dei sotterranei si snoda per un centinaio di metri, disposti su due livelli sotto Piazza della Morte. Ed inoltre ci sono due appuntamenti quotidiani alle ore 11 e alle ore 15 dedicati alla scoperta della storia e dei segreti della Viterbo medievale con visite guidate per grandi e bambini, entrambi abbinati a ottime degustazioni gratuite di prodotti tipici della Tuscia. E proseguiamo con Acqua Pendente dove domenica 28 aprile a partire dalle ore 11 ci sarà l'antica Fiera delle Campanelle, un tour guidato tra arte e tradizione organizzato dalla COP La Pelergina e il Museo della Città Civico e Diocesano. Per le vie di Acqua Pendente lungo il percorso si farà tappa in uno dei laboratori dei Pugnaloni con visita alla caratteristica fiera. Gli appassionati di escursionismo e storia dell'arte saranno accompagnati in una piacevolissima passeggiata nel borgo di Acqua Pendente a visitare la Pinacoteca di San Francesco, coperta straordinariamente per l'occasione e ad ammirare le campanelle artistiche esposte nella fiera. Una speciale tappa poi sarà presso uno dei laboratori di realizzazione dei Pugnaloni per rendere questo tour unico nel suo genere. Passiamo invece alle iniziative del Parco Naturale della Valle del Treia dove domenica 28 aprile ci sarà la pratica di Kung Fu nella natura per adulti e bambini. Verrà introdotto il Kung Fu della Mantide Sette Stelle, l'appuntamento è alle ore 9.30 in Piazza Roma a Calcata Vecchia. La difficoltà è media, la durata del percorso è di circa 6 ore e la lunghezza 3 chilometri. Un'altra proposta riguarda le gole del Biedano, tra due borghi e lungo la via Clodia. Il torrente Biedano, che prende il nome dall'antico nome di Bieda, l'attuale Blera, ci riserva molte sorprese. La partenza sarà da Blera per raggiungere il borgo di Barbarano Romano. Le gole del torrente Biedano sono considerate tra le più affascinanti del Lazio. La durata di questa escursione è di circa 4 ore. Il percorso è facile ma è accidentato con alcuni guadi del torrente. Questa è un'iniziativa a cura di antico presente. L'appuntamento è domenica 28 aprile alle ore 9.30 in piazza Papa Giovanni XXIII a Blera, di fronte al ristorante La Torretta. Ed ora invece è la volta di Vitorchiano, dove sono previste delle visite guidate. Riprendono le aperture del Palazzo Comunale di Vitorchiano nei fine settimana, nei giorni di sabato 27 e domenica 28, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Palazzo Comunale di Vitorchiano, risalente al XV secolo, è uno dei più belli della provincia di Viterbo, da non perdere la Sala del Consiglio e la Torre, dalla cui sommità è possibile ammirare il panorama che circonda il paese. Infine, una bella proposta riguarda anche la Regione Lazio, che rinnova l'appuntamento con le dimore storiche del Lazio, dal 25 al 28 di aprile. Tanti tesori nascosti in tutti gli angoli della nostra regione apriranno le porte ai visitatori. Dopo il grande successo della prima giornata delle dimore storiche del Lazio, che si è svolta il 21 ottobre del 2018, la Regione Lazio, con il supporto di Lazio Innova e la collaborazione dell'Istituto regionale Ville Tuscolane dell'Associazione Dimore Storiche Italiane e dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, ha organizzato un nuovo appuntamento per promuovere la rete delle dimore storiche, che è costituita nel 2017, che al momento raccoglie 129 siti pubblici e privati, selezionati attraverso avvisi pubblici. A questo secondo appuntamento hanno aderito 80 traccastelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e dimore storiche, parchi e casali. 9 nella provincia di Frosinone, 13 in quelli di Latina, in quella di Latina, 6 in quella di Rieti, 29 in quella di Roma e 16 nella nostra provincia, Viterbo. Le quattro giornate di apertura straordinaria gratuita prevedono anche un ricco programma di spettacoli e degustazioni di prodotti tipici del Lazio, realizzato in collaborazione con Agrocamera. Orari e modalità di visita sono differenti, ovviamente la prenotazione è obbligatoria attraverso il call center dedicato. Adesso spostiamoci in Umbria e scopriamo cosa questa settimana ci propone la redazione di Avinews. Andrea Castellani, organizzatore di Holy Wine, giusto giunto alla sesta edizione, un'iniziativa importante, una manifestazione dedicata alle piccole cantine, alle cantine chiaramente di qualità, una manifestazione, insomma un format che sta avendo successo. Sì, è un format che funziona, è un format legato principalmente oltre alle piccole cantine ai giovani produttori di pino. Il nostro è l'unico salone nazionale dedicato ai giovani produttori di pino. Sono 100 cantine selezionate dall'Associazione Italiana Sommelier a livello nazionale. Poi in questi anni abbiamo giunto dei vari settori, quindi quest'anno abbiamo la novità dell'area Rosati, con 30 cantine che porteranno solamente Rosati, che viene gestita e coordinata da uno dei più importanti wine blogger a livello internazionale, Francesco Saveri Russo. Poi abbiamo un bellissimo padiglione dedicato all'Umbria, dove ospiteremo 50 giovani produttori di vino Umbri e poi abbiamo un padiglione dedicato agli international, dove ospiteremo giovani produttori provenienti da tutta Europa. Insomma una manifestazione ricca, si sta arricchendo, quindi tantissime cantine. A che numero siamo arrivati? Siamo arrivati a 212 cantine, il format è molto semplice, si arriva a Città di Castello, siamo in pieno centro storico, nei palazzi del centro storico, si può acquistare un calice e si può degustare tutte le cantine in giro per la fiera, con questo calice hai diritto a degustazioni limitate. Poi abbiamo le masterclass, le masterclass le potete trovare sul sito holywinefestival.it e prenotate le varie degustazioni guidate dai migliori sommelier AIS. Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello, quest'oggi è la presentazione della sesta edizione di Holywine, una manifestazione che sicuramente porta movimento, porta turismo e eccellenze e qualità dall'Umbria, dall'Italia e anche dall'Europa, vista la nuova sezione internazionale di Holywine. Sì, direi che questa manifestazione che si svolgerà il 27 aprile ha raggiunto un livello di eccellenza considerevole, è una grande vestigna per i giovani produttori di vino, per le aziende guidate appunto da persone le quali intendono lanciarsi sul mercato in maniera autonoma, coraggiosa, intelligente e diciamo che costituisce un momento importante per la città perché è un'iniziativa che ha portato già negli anni scorsi moltissimi visitatori, continuerà a farlo anche quest'anno, è in costante crescita e questo lo dobbiamo anche alla capacità imprenditoriale di andare a Castellani e dei suoi collaboratori. Noi siamo molto soddisfatti della collaborazione che il Comune ha con gli organizzatori di Holywine Festival, convinti che continuerà anche per questa edizione e nelle prossime a raggiungere livelli di eccellenza assoluta. Ed ora colleghiamoci con il Trebimeteo e scopriamo il tempo per questo fine settimana. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Il weekend vedrà due volti meteorologici sull'Italia con un sabato tutto sommato discreto salvo qualche breve rovescio lungo l'Appennino e residui precipitazioni sulle estreme regioni meridionali, ma notate come avanza una nuova perturbazione che poi nel corso di domenica porterà un nuovo peggioramento soprattutto sul nord-est al centro. Infatti lo vediamo nella grafica successiva con questa nuova goccia fredda che dall'Atlantico si posizionerà verso l'Europa centrale andando gradualmente a coinvolgere anche il nord-Italia dove ci aspettiamo qualche rovescio temporale in particolare sui settori di nord-est alla Lombardia orientale con neve a tratti anche sin sotto i 1200 metri sulle Alpi proprio per l'arrivo di aria più fredda. E nel corso di domenica questo fronte freddo raggiungerà anche le regioni centrali con qualche rovescio temporale soprattutto su Adriatica ed Appennino mentre al sud la situazione sarà ancora tranquilla. Uno sguardo infine alla prossima settimana che vedrà l'evoluzione di tutta la struttura depressionaria gradualmente verso est complice a una rimonta dell'alta pressione più a ovest ma ancora con condizioni di instabilità sulla nostra penisola in particolare sui versanti orientali e il Triveneto in un contesto climatico piuttosto fresco per il periodo. Ma per tutti gli ulteriori aggiornamenti e dettagli vi rimando al sito trabimeteo.com Siamo giunti ai saluti finali, io vi ricordo come sempre che potete seguirci ai consueti orari sui canali TRO 71 e TRO 2 273 e nei siti internet www.teleorte.it e www.gnotuscia.it A seguire vi ricordo come sempre l'appuntamento con fatti e commenti, il collega Stefano Stefanini in questa puntata affronterà l'argomento della riapertura Orte Capranica Civita Vecchia e non solo, scopriamolo insieme seguendo questa puntata di fatti e commenti. Noi come sempre ci vediamo alla prossima edizione, arrivederci! Grazie a tutti!